Rispondi sinceramente, quanto tempo potresti vivere senza lavorare? Sì, so che questa potrebbe essere una domanda provocatoria, però seguimi fino alla fine di questo video perché capirai che cosa intendo e soprattutto scoprirai un sistema per guadagnare diverso da quello che magari ti hanno insegnato o da quello che stai facendo in questo momento. Sì, perché molte persone fanno fatica ad arrivare a fine mese, non possono permettersi di smettere di lavorare, perché se non guadagnano non arrivano a fine mese, quindi non riescono neanche ad avere il minimo di sostentamento. Alcune persone hanno magari un'autonomia di 2-3 mesi o 6 mesi, ma pochissime persone possono alla fine permettersi di vivere anche senza lavorare. Chi invece può permettersi di vivere senza lavorare significa che ha raggiunto la libertà finanziaria, così si chiama, e andremo a scoprire che cosa vuol dire la libertà finanziaria e quindi scoprirai come anche tu, anche se non hai competenze, non hai soldi, hai sempre fatto il dipendente, non sai da che parte sbattere la testa, le hai provate tutte, scoprirai come si può raggiungere la libertà finanziaria in un modo un po' più semplice. Perché appunto oggi voglio svelarti il sistema più semplice che permette a chiunque di raggiungere la libertà finanziaria. Attenzione che chiaramente, benché sia un sistema semplice alla portata di tutti, per raggiungere la libertà finanziaria ci vuole duro lavoro e impegno costante, perché i guadagni facili non esistono, a differenza di quello che magari ti fanno credere lì fuori i fantomatici guru o quelli che trovi online. Scoprirai un sistema che ti consente di guadagnare anche da casa, che ovviamente chiunque può utilizzare, come dicevo, perché è un sistema alla portata di tutti, che puoi fare anche se parti da zero, non hai soldi da investire, non hai competenze, anche se pensi di averle già provate tutte, anche se pensi che magari sei destinato a fare sempre il dipendente, o che non uscirai mai da quella situazione in cui ti trovi in questo momento. Quindi seguimi attentamente in questo video. Perché è un sistema che non richiede investimenti di capitali, non necessita di particolari competenze, soprattutto competenze informatiche, e addirittura in Italia è tutelato da una legge specifica che prevede anche numerosi vantaggi fiscali che andremo a vedere successivamente. Quindi libertà finanziaria cosa vuol dire? Vuol dire avere ogni mese entrate che sono superiori al tuo stile di vita, che ti permettono di fare quello che vuoi nel tempo che vuoi. Quindi significa avere soldi che entrano sul tuo conto corrente, indipendentemente da quanto tempo hai lavorato o stai lavorando in questo momento. Normalmente per raggiungere libertà finanziaria si conoscono tre sistemi, che sono le rendite dei immobili, le rendite finanziarie e le royalties. Cioè rendite dei immobili vuol dire ovviamente compro un immobile o un immobile proprietà che metto ad esempio in affitto che mi produce una rendita nel tempo. Le rendite finanziarie vuol dire che investo dei soldi in qualche prodotto finanziario che possono essere le obbligazioni, per dire cose molto semplici oppure cose più articolate come le azioni, come i fondi di investimento, oppure crowdfunding, oppure commodities, opzioni, roba del genere che mi consentono di portare a casa dei dividendi, dei guadagni in più in base all'aumento di un'azione, eccetera. Le royalties sono il fatto che scrivo un libro ad esempio e vengo pagato ogni volta che questo libro viene venduto, l'ho scritto una volta e i diritti d'autore, così si chiamano, mi portano una rendita, oppure un brevetto, registro un brevetto di un qualsiasi prodotto di qualche cosa che ogni volta che viene venduto mi dà una percentuale di rendita. Ma adesso stai per scoprire come anche tu, tu che sei qui in questo momento, puoi diventare libero finanziariamente, a prescindere da dove parti in questo momento. Io chi sono? Mi presento se ancora non mi conosci, sono Mirko Lanfranchi, io facevo il dipendente, lavoravo come vedi qui nel mondo del golf, ero molto impegnato in questa attività perché mi occupava tante ore al giorno, dalle 10 alle 12 ore al giorno, a volte anche di più, lavoravo tutti i sabati e le domeniche, tutti i giorni di festa, perché ovviamente poi in questo settore si lavora di più in questi periodi e avevo un lavoro di responsabilità ed ero molto impegnato sostanzialmente a realizzare i sogni nel mio datore di lavoro, perché io alla fine lavoravo tanto, guadagnavo sempre quello perché il mio stipendio era fisso, non avevo crescita, non avevo possibilità di tirar fuori la mia creatività perché ero soggetto insomma a quello che erano i voleri dell'azienda e vedevo che insomma non andavo da nessuna parte, ero molto impegnato a correre, 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 ma ero come il criceto nella ruota e non andavo da nessuna parte e quindi all'inizio era una passione, mi piaceva molto, però poi questa passione vedevo che non era corrisposta in termini appunto di non solo di guadagno ma anche di crescita, di motivazione, di ambizione e quant'altro e quindi cominciavo ad essere un po' frustrato. ero alla ricerca della mia libertà finanziaria, volevo trovare un altro sistema per guadagnare e per diventare libero, quindi slegarmi da quella situazione in cui mi trovavo in quel momento e da diversi anni ho trovato un modello di business alla portata di tutti che nell'arco di poco tempo mi ha creato una rendita mensile importante e che è anche in continua crescita. Quindi cosa ho scoperto? Ho scoperto quello che si chiama network marketing professionale, quindi seguimi bene attentamente in questo video perché scoprirai anche tu cosa vuol dire network marketing professionale e come questa attività potrà impattare sulla tua vita, sul tuo stile di vita, sulla tua famiglia, sulle persone a te care e ovviamente anche sulle tue entrate. Quindi ma cosa vuol dire effettivamente essere finanziariamente liberi? Vuol dire avere delle entrate che sono superiori alle spese correnti, quindi non che arrivi sempre a zero, ma che comunque man mano queste entrate si accumulano anche nel tempo, ma poi queste entrate vanno a pagare il mio stile di vita e quello della mia famiglia, quindi che mi consentano di togliere i miei sfizi, di fare la mia vita, di fare la vita che voglio senza dover tirare la cinghia, senza essere frustrato, senza rischiare di non arrivare ovviamente a fine mese. E ho scoperto che col network marketing è possibile per chiunque crearsi una rendita mensile usando che cosa? Non i soldi, non investimenti o roba del genere, ma usando intelligentemente il proprio tempo, a differenza quindi di quelli che sono gli investimenti tradizionali che mi portano via ad esempio un sacco di soldi. Sì, perché il network marketing ci consente di creare un sistema slegato appunto dal tempo, ma per capire bene cosa intendo ti faccio vedere questo quadrante, il cosiddetto quadrante del cash flow, che magari conosci già, perché c'era il famoso Robert Kiyosaki che ne ha parlato spesso anche nei suoi libri. E questo è il concetto molto importante, perché vediamo qui, ci sono le quattro figure, le quattro tipologie di attività che ci consentono di guadagnare in modo etico, quelle attività che sono legali. e ci sono il dipendente, l'autonomo, il titolare d'impresa e l'investitore. E sono divisi in due parti, come vedi il quadrante c'è la parte di sinistra che è legata al tempo, cioè sono attività che sono legate al tempo, perché il dipendente ha un lavoro dove vende tempo, è pagato in base a quanto tempo lavora e prende uno stipendio, normalmente uno stipendio fisso. Abbiamo l'autonomo, l'autonomo è una persona che ha una sua attività, diciamo così, professionista di solito, quindi non so, un professionista può essere un avvocato, un architetto, un fotografo, qualcosa del genere, e ha un lavoro, possiede il suo lavoro, perché è il suo, la sua, e possiede perché è suo, però è sempre legato al tempo, cioè ecco una persona che è pagata sempre in base a quanto tempo lavora. Quindi anche qui, se non lavora, non guadagna. È un po' un falso mito, mi gestisco il tempo, sì, però attenzione che se non lavori, ti prendi le vacanze tre mesi, per dire, non lavori e non stai guadagnando. Ed è i due sistemi, dipendente e autonomo, i due lavori, le due attività, come vedi sono nella parte sinistra, proprio perché sono legate al tempo, come ti dicevo, ma anche alla sicurezza, sono quelle attività che ci danno questa sicurezza dell'entrata, vendo il mio tempo e prendo i soldi, quindi danno più sicurezza, soprattutto il dipendente, no? Il dipendente ha lo stipendio fisso, ha una parvenza di sicurezza, perché pensa di ricevere poi sempre quello stipendio, non pensando che magari poi l'azienda cambia idea, si ristruttura, oppure chiude, fallisce, eccetera, e il dipendente non ha più il lavoro, quindi non ha più la sicurezza, non è una cosa così sicura svolgere un lavoro per qualcun altro, soprattutto al giorno d'oggi. Spostiamoci nei quadranti di destra, i quadranti di destra sono legati ai soldi, perché sono attività dove non si vende tempo, ma servono dei soldi per avviare questa attività, che porta alla libertà, perché si è pagati non in quanto tempo si lavora, ma in base a quanto valore si produce sul mercato, e quindi abbiamo due tipologie di attività, sono il titolare di impresa, che quindi costruisce, possiede un sistema, un metodo, un'idea, che gli consente di guadagnare anche senza la sua effettiva operatività, ok? Quindi costruisco un'azienda, un'azienda di persone, ci sono altre persone che fanno diverse mansioni, ovviamente un uno prenderà il suo stipendio, però io titolare di impresa, imprenditore, guadagno grazie al lavoro che fanno gli altri, ok? Cioè il titolare di impresa compra tempo, non vende tempo, ok? Compra il tempo degli altri per farli lavorare. L'investitore cosa fa? Non ha persone, ovviamente, ha soldi, quindi compra qualche cosa, compra degli investimenti, ok? Che producono delle rendite, che quindi consentono all'investitore di guadagnare senza essere attivo, senza fare nulla, faccio guadagnare i miei investimenti. I quadranti di destra, il titolare di impresa e l'investitore, come vedi, sono legati alla libertà, perché questi due sistemi, questi due modi, diciamo così, di guadagnare, fanno sì che tu possa essere libero, proprio perché non vendi tempo, ma compri tempo, compri il tempo per essere libero. Quindi questo è importante da capire, queste due, diciamo queste quattro attività e come si articolano, perché se capiamo bene questo concetto, riusciamo a capire anche quello che arriverà tra poco. Infatti il network marketing è uguale a denaro di qualità, perché è un'attività, appunto, che diventa attività imprenditoriale, che quindi consente di guadagnare indipendentemente dal nostro coinvolgimento diretto, perché è un sistema più semplice per costruire un'attività imprenditoriale, ok? Quindi un conto è ricevere denaro che deriva da 8-10 ore di lavoro giornaliere e un conto è guadagnare indipendentemente dal nostro coinvolgimento diretto. E stai con me fino alla fine perché vedrai come funziona e come si fa a costruire questo sistema. Perché le network marketing, le tue entrate, non sono legate solo al tuo tempo lavorato, ma anche da quello che lavorano le persone che sono nella tua organizzazione che hai creato, perché il network marketing è un sistema, appunto, più semplice per creare un'azienda, un'azienda fatta di persone. È il semplice metodo di lavoro che permette a chiunque di crearsi un'organizzazione di centinaia, di decine, di centinaia, di migliaia di persone partendo dalla nostra cerchia di conoscenze, oppure attraverso i contatti che abbiamo sui social network. E chi è successo in questa attività magari parte appunto da quelle 10-15 persone iniziali con le quali si va a condividere questa attività e grazie alla condivisione poi si ritrova migliaia di persone nella sua attività, pur conoscendone magari direttamente solo una piccola percentuale. Ma il sistema di compensi che è utilizzato nel network marketing gli permetterà di ricevere guadagni indiretti da royalty sul fatturato di tutta l'organizzazione. Sì, perché questo è un sistema che ti consente di ricevere delle royalty, proprio come dicevamo prima, come se avessi scritto un libro o un brevetto, anche se poi non l'hai fatto, perché poi alla fine qua è un'attività diversa. E questo per me è uno degli aspetti più incredibili ed entusiasmanti del network marketing. Quindi senza competenze, senza nessun tipo di investimento, posso crearmi qualche cosa, ovviamente andando ad imparare con la formazione, che mi porta poi ad avere delle entrate slegate dal mio tempo. Perché non è solo il tuo tempo che produce denaro attraverso il fatturato che fai, ma è anche il tempo di tutte quelle persone che fanno parte della tua organizzazione che a loro volta producono un fatturato. Quindi aiutiamo gli altri a guadagnare. E persone che a loro volta avranno la tua stessa opportunità inizieranno a creare la loro rendita. Quindi mentre tu crei la tua libertà finanziaria, può aiutare tante altre persone a raggiungere la loro libertà finanziaria. Quindi diventa un lavoro di squadra, di team. franchising. Una specie di franchising di persone, perché è un sistema già pronto, tipo un franchising, come idea. Il franchising è un sistema, un modello di business dove c'è già un marchio, ci sono già dei prodotti, c'è già un'azienda strutturata che tu entri a farne parte acquistando quel franchising, quel brand. Però questo è un franchising di persone, perché qui non compri attrezzature, negozi, vetrine, magazzino, prodotti. Ma vai a condividere un progetto con altre persone. Quindi sei tu la vetrina della tua attività e sei tu il prodotto del prodotto. Ma questo sistema, questo network marketing, è un'invenzione dell'ultima ora? Ecco, se te lo stai chiedendo, il network marketing non è una moda del momento. Io personalmente faccio questa attività da 20 anni ormai, quindi insomma è più tempo di una moda. Ma è un'attività addirittura che è nata negli Stati Uniti nel 1934 e che oggi coinvolge quasi 130 milioni di persone nel mondo, quasi 20 milioni solo in Europa e oltre 600 mila nella sola Italia. E per darti un po' di numeri, ecco qui che cosa vuol dire essere parte di un'azienda di network marketing. Vuol dire entrare a far parte di un fatturato annuo di oltre 180 miliardi a livello mondiale, di cui la metà circa sono restituiti agli incaricati, alle vendite, sulla base di provvigioni, ovviamente di guadagni. 2,5 miliardi è il fatturato che produce il mondo del network marketing in Italia. E pensa che il network marketing fattura più della musica e della Formula 1 messi insieme. E considera anche che il fatturato della NFL, che è la National Football League, che è una delle leghe sportive più importanti del mondo, è quello di 13 miliardi. Il cinema, il mondo del cinema fattura circa 38 miliardi e i videogames, il mondo dei videogames fatturano circa 67 miliardi. Quindi il network marketing è superiore a queste tre attività importanti messe insieme. Quindi sicuramente un business da prendere in grossa considerazione, perché possiamo andare a prendere una parte di questo fatturato. Tra l'altro è anche un'attività che è materia di studio nelle principali università. Quindi anche la Bocconi di Milano, una delle più prestigiose università di economia, parla, tratta, argomenta il mondo del network marketing. E tra l'altro, in più, in Italia il network marketing è anche tutelato da Avedisco, che è l'associazione italiana che certifica i controller rispetto delle regole nel mondo della venta diretta, ovvero del network marketing. Ma come si fa il network marketing? Dunque, per prima cosa si inizia a creare una base di 10 o 20 clienti, 10 o 20 clienti che consumano, utilizzano i prodotti che vengono proposti dall'azienda con la quale si entra in collaborazione. Poi l'obiettivo è espandere il proprio business creando una tua organizzazione commerciale quanto più vasta e profonda possibile, dove quindi ci sono altre persone che aderiscono al tuo modello di business e fanno altrettanto, cioè cominciano a creare una base di 10 o 20 clienti. Quindi si crea un passaparola, un passaparola che ti paga, perché quando consigli un ristorante, un libro, un film e cose che fai già, lo fai tutti i giorni e lo consigli al tuo amico non vieni pagato per questo. Mentre nel network si è ricompensato per questa attività e lo saranno anche le persone che a loro volta lo consiglieranno ad altri, quindi generando un'organizzazione basata sul passaparola, con una crescita esponenziale e quindi potenzialmente illimitata. E come si fa a coinvolgere le persone? Per coinvolgere attivamente e finanziariamente le persone in questo flusso del passaparola pagato si usa il termine sponsorizzare. E cosa significa sponsorizzare? Significa dare a una persona la licenza per iniziare l'attività. Chi fa parte di un'azienda di network può a sua volta cedere questa licenza per poter avviare la propria attività, perché non è possibile fare in un altro modo. Cioè una persona da sola non può entrare in un'attività di network, deve avere lo sponsor, quindi qualcuno che gli dà questa licenza che poi va ad aiutare questa persona ad avviare la propria attività e accompagnarla fin dai primi passi a costruire la sua organizzazione. Cioè il mio compito ad esempio è proprio quello di farti da sponsor per poterti avviare all'interno di questo business. Poi è importante anche non solo lo sponsor, scegliere anche lo sponsor giusto, ma l'azienda è in fondamentale, l'azienda giusta. Se scegli l'azienda giusta con cui iniziare la tua attività nel network marketing avrai a disposizione infatti fin da subito prodotti di qualità, che è la cosa più importante, ovviamente collaborare con un'azienda leader, un'azienda che dà dei prodotti che funzionano, che fanno effettivamente bene alle persone e poi avrai anche tutti gli strumenti, il supporto, la formazione necessari per far crescere la tua attività e i tuoi guadagni. E quali caratteristiche deve avere l'azienda giusta? Ecco, se valuti un'attività di network devi prendere in considerazione che l'azienda con la quale entri in collaborazione deve avere almeno 10 anni di storia, deve avere la sede legale e fiscale in Italia, per non prendere fregature, perché poi ti trovi aziende che si spacciano per aziende di network ma poi fanno tutt'altro, oppure non hanno la sede in Italia, quindi se hai un problema non sai a chi rivolgerti, magari ti rispondono in inglese, oppure non ti mandano i tuoi guadagni, non ti fanno il bonifico, sono alle Cayman, sono a Cipro, sono a Malta, eccetera. Ci deve essere un supporto professionale per la formazione e l'assistenza che deve essere fatta sia ai consumatori che ai collaboratori, l'azienda in Italia deve fatturare almeno una trentina di milioni di Euro, questo vuol dire solidità, vuol dire mercato. Deve essere presente in almeno 50 paesi del mondo, perché così puoi avere la possibilità di fare business dove vuoi, quindi allargare il tuo business, non solo farlo crescere in Italia, ma avere un sistema che si espande potenzialmente anche in tutto il mondo. Deve essere un'azienda certificata e riconosciuta da organi indipendenti, quindi Vedi Avedisco, ad esempio che ne abbiamo parlato prima, e deve essere un'azienda che operi con prodotti fisici di largo consumo, quindi attenzione alle aziende di network che poi ti propongono gli investimenti o bitcoin, criptomonete o roba del genere, o comunque investimenti immobiliari. Attenzione perché lì potrebbe non essere un'azienda di network, va analizzato molto bene. I settori che vanno di più nel mondo del network sono il benessere, la salute e la cura della persona, prodotti di uso quotidiano, diciamo così, perché sono prodotti fisici, prodotti che si possono toccare, prodotti che si possono utilizzare e quindi provare anche sulla propria persona, quindi questo dà molta più credibilità e dà molta più fiducia anche alle persone. E la parte più pagante è proprio questa, cioè la parte più bella è quella che ti permette di condividere questa attività, quello che offre l'azienda, con chi vuoi e con le persone a cui vuoi bene per aiutarle a raggiungere non solo la propria libertà finanziaria, ma anche il proprio benessere fisico. Quindi non c'è nulla che dia maggiore soddisfazione per me come aiutare le persone a cui teniamo a raggiungere la loro libertà finanziaria e anche uno stile di vita migliore. Quindi salute, libertà finanziaria e tempo libero. Mentre aiutiamo altre persone ad avere uno stile di vita migliore, miglioriamo anche il nostro e quello della nostra famiglia. Quindi è un'attività vinci vinci, come si dice, tutti ne traggono un beneficio, non c'è nessuno che perde. Quindi il network marketing è l'unico settore in cui puoi costruire guadagni continuativi anche molto importanti partendo completamente da zero. E quanto si può guadagnare in questa attività? È un'attività per arrotondare, per perdere tempo? No, cioè puoi decidere quello che vuoi fare. È un'attività che puoi costruire sulla base delle tue esigenze e delle tue ambizioni. Quindi non c'è limite, non c'è obbligo su quello che puoi fare con questo business. Puoi cominciare semplicemente usando e condividendo i prodotti. Si può iniziare a guadagnare un extra mensile. Normalmente quando si promuovano i prodotti si guadagna dai 200 ai 500 Euro al mese, ad esempio. Puoi andare a costruire qualcosa di più importante, quindi promuovi i prodotti ma costruisci anche il team di persone, quindi che fanno altrettanto. E quindi puoi raggiungere un compenso mensile che va dai 500 ai 3.000 Euro al mese, sempre ovviamente in base al tuo impegno, alla tua dedizione. E poi se vorrai la tua attività è incrementabile, cioè potrai espanderla ancora di più, perché potrai dedicarti a formare leader come te all'interno del tuo gruppo, quindi far crescere delle persone, fargli fare carriera in questa attività sulla base della meritocrazia, sulla base del loro impegno su quanto andranno a fatturare e per ogni leader che formerai l'azienda ti garantirà ulteriori forme di guadagno e incentivi, cioè ti darà ulteriori royalty che ti concentreranno di guadagnare dai 5.000 Euro e oltre al mese, ovviamente, ripeto, sulla base del tuo lavoro, del tuo impegno. Perché ovviamente, soprattutto all'inizio, serve impegno e costanza, ma il bello del network marketing è che più fai crescere la tua organizzazione e prima diventerà una vera e propria impresa che si trasformerà in gruppi di team autonomi in grado di sviluppare fatturato anche senza il tuo coinvolgimento diretto, generandoti però dei guadagni continuativi slegati dal tuo tempo, perché tu prenderai delle royalty appunto da questi gruppi di lavoro autonomi che fanno fatturato, quindi un'attività che ti consente di essere improprio, proprio un vero e proprio imprenditore, ma dove non sei mai da solo, perché nel network marketing, a differenza del mondo del lavoro tradizionale, avrai sempre a tua disposizione un team disposto ad aiutarti e ad assisterti da subito affinché tu possa far crescere la tua attività. E con il network marketing è quindi possibile arrivare a guadagnare anche cifre molto importanti, perché? Perché c'è una potente leva finanziaria che è generata dal fatto che i tuoi guadagni, che abbiamo già detto, non sono legati solo al tuo fatturato, cioè a quello che fai tu, ma anche al fatturato di tutte le persone della tua organizzazione. Un conto è fare le cose da solo e un conto è sfruttare questa leva, diciamo, della moltiplicazione grazie a quello che fanno anche gli altri. Quindi il network marketing è un'attività meritocratica al 100% e sappiamo bene che la meritocrazia non è una cosa così scontata nel mondo del lavoro tradizionale, anzi, io ne sono l'esempio, venivo da un sistema che non era meritocratico. Ma magari qualcuno sta domandando, ma siamo sicuri che sia una cosa seria? Beh, allora se hai qualche dubbio ti capisco perché anche io ero molto prevenuto, perché stupidamente associavo network marketing alle catene di Sant'Antonio, agli schemi piramidali, alle truffe, oppure all'attività in cui bisogna trasformarsi in quei monestatori seriali per assillare chiunque ti capiti a tiro. E pensavo bisognerebbe andare in giro a suonare i campanelli, a fare porta a porta, oppure a stalkerare gli amici e parenti. Ma come vi hai già visto prima, ho parlato di una legge, c'è una legge, c'è un'associazione dietro, quindi già questi sono, se scegli l'azienda giusta, ovviamente sono già dei punti importanti che ti dicono che è una cosa seria. Però c'è anche altro, perché poi ho deciso di smettere di basarmi sui pregiudizi. E anziché basarmi sul sentito dire, ho deciso di informarmi da fonti certe e verificate, e soprattutto da persone che avevano già un'attività di network. E poi mi sono dovuto ricredere al 100%, quando ho scoperto che il network marketing non solo è un'attività seria, ma è anche una grande opportunità per tutti quelli che sono in cerca della libertà finanziaria e uno stile di vita migliore. Quindi mi sono basato sui fatti e le fonti certe. E ho anche scoperto che, appunto, non è un'attività di vendita porta a porta, non è neanche un'attività di vendita, poi alla fine, perché è un'attività di condivisione, non è un'attività per pochi, perché come abbiamo detto, se sei ambizioso, vuoi darti da fare, vuoi avere la libertà, vuoi toglierti dalla situazione in cui sei adesso, chiunque la può intraprendere indipendentemente dal sesso, dal titolo di studio e dalle precedenti esperienza. Non è un'attività a tempo pieno, scegli tu gli orari, non devi investire i capitali e non servono uffici, dipendenti, attrezzature, magazzino e quindi chiunque la può svolgere da casa o dove si vuole, quindi anche senza rischi imprenditoriali. In più, proprio perché è un'attività seria, è un'attività che è regolamentata anche a livello fiscale, perché in Italia il network marketing gode di un regime fiscale con agevolazioni incredibili che non esistono praticamente in nessun'altra attività. E quali sono queste agevolazioni fiscali? Innanzitutto non è un'attività di vendita, noi non dobbiamo avere i prodotti, le cose da vendere, da portare in giro, andare a prendere i soldi, farci pagare, gestire i presi o le spedizioni o roba del genere. Questa è un'attività che è regolamentata dalla legge 173 del 2005, dove noi facciamo promozione e poi sono le persone che comprano direttamente dall'azienda e poi sarà l'azienda che si occupa di tutto il resto. Noi dobbiamo solo preoccuparci poi di prendere le provvigioni. E in più, grazie al fatto che è l'azienda che si occupa di tutto, abbiamo una tassazione agevolata con ritenuta di imposta definitiva del 23% su 78% di fatturato, che vuol dire circa un 18% alla fonte, cioè si occupa dell'azienda di tassarci, di pagarci le tasse al 18%. Questo sempre, a prescindere da quanto si guadagna. E sempre siamo esclusi dalla dichiarazione dei redditi, sulla base della risoluzione ministeriale 180 del 1995, proprio perché è l'azienda con la quale andiamo a collaborare che si occuperà di versarci le tasse. Quindi noi quello che poi andiamo a prendere è già detassato, già stato tassato prima, quindi non dobbiamo dichiarare un'altra volta perché andremo poi a pagare le tasse due volte, che penso non sia il caso. In più, grazie a questo aspetto, quello che guadagniamo con il network non fa cumulo fiscale con eventuali altri redditi, quindi un'attività che possiamo abbinare anche a un'eventuale altra attività che stiamo già svolgendo. Ed è un'attività occasionale, quindi non si deve aprire la partita IVA, altra cosa importante rispetto a un business tradizionale, finché non abbiamo raggiunto i 6.410 euro all'anno lordi di guadagno, che corrispondono a 5.000 euro netti. Superati i 5.000 euro in un anno diventa attività abituale, quindi bisogna aprire la partita IVA con il codice ATECO 461902. Però non cambia poi niente a livello di tassazione, perché rimane tutto esattamente come abbiamo detto prima, quindi sempre con ritenuta l'imposta al 18%, nessuna dichiarazione dei redditi, nessun cumulo fiscale con altri redditi. In più a questo punto cosa succede? C'è un altro vantaggio che l'azienda ci ha per la posizione INPS con la gestione separata in base alla legge 335 del 2005, dove anche qui i contributi praticamente si pagano automaticamente, dove un terzo lo trattiene l'azienda direttamente dalle nostre provisioni e i due terzi sono a carico dell'azienda direttamente. Quindi noi mettiamo via anche i contributi per avere poi una pensione effettiva dell'INPS. Ecco che se non fosse un'attività regolare, ad esempio, non potremmo avere i contributi e l'iscrizione all'INPS o il codice ATECO della partita IVA. Poi è un'attività che consente anche di avere l'assegno di maternità per le donne, un po' come se si fosse un dipendente, per fare un esempio, e anche ovviamente è importante, è un'attività ereditabile, perché tutto quello che tu costruisci, tutta la tua rete commerciale, tutte le tue persone che hai inserito in questo network, che fanno passaparola, poi andranno in mano ai tuoi figli o a chi saranno gli eredi, che quindi si troveranno un business che produce una rendita effettiva. E poi ti permette di vivere uno stile di vita stimolante, sì perché si conoscono un sacco di persone nuove, ambiente positivo, pieno di energia, io ho conosciuto tantissime persone facendo questa attività, ho visto tanti post del mondo, ho viaggiato anche gratis, grazie appunto ai risultati, puoi partecipare a feste esclusive, viene riconosciuto e premiato per un risultato raggiunto e puoi avere sempre la formazione gratuita a vita, che ti permetterà di crescere come persona, ma anche, è importante nell'attività come professionista, quindi non è un'attività statica, ma ti consente di evolvere e di crescere sempre di più, in base ovviamente a quelli che sono i tuoi obiettivi e la tua ambizione. Quindi si tratta di un'attività basata su condivisione e passaparola, qualcosa che appunto, come abbiamo già detto, facciamo già abitualmente senza essere pagati. Nel network marketing invece si viene pagati non solo per il consumo delle persone con cui noi abbiamo condiviso in prima persona, ma anche per il consumo delle persone a cui hanno condiviso quelle persone con cui abbiamo parlato noi. Quindi diciamo, guadagniamo dai nostri clienti, ma anche dai clienti dei nostri collaboratori. A volte le persone, dopo aver parlato con me del network e di tutte le opportunità che offre, mi dicono, sì, ma io non conosco nessuno, non ho tempo, non ho soldi, non so come si fa, non ho esperienza o qualcosa del genere. Oppure mi dicono, ma io sono scettico, non penso si possa guadagnare con il network marketing, guadagnano solo i primi che iniziano, io ho sentito dire che, ho letto su internet che, il mio vicino di casa mi ha detto che, il mio cugino, eccetera. E sai cosa rispondo io a quelle persone? Ti dico con grande onestà che il problema non mi riguarda. Perché? Perché i dati oggettivi parlano chiaro e te li ho fatti vedere, te li ho mostrati. Questa è l'attività che ha creato più milionari al mondo. Oltre 100 milioni di persone al mondo hanno già una loro attività di network marketing, 100 milioni. E io, io stesso, guadagno con questa attività, e conosco personalmente migliaia di persone che guadagnano con questa attività. Come ad esempio Gloria Giuliani, che ha iniziato questa attività a 50 anni, quindi non più così giovane, magari se stai pensando che sei troppo vecchio per fare delle cose, per avviare una tua attività, eccetera. Dopo che aveva perso tutte le attività tradizionali che aveva, perché ha subito un fallimento, quindi si è trovata con gli immobili all'asta, la casa all'asta, ha perso praticamente tutto e grazie a questo business è riuscita però da subito, insomma abbastanza velocemente a guadagnare 2.500 Euro già nel primo mese e alla fine, dopo ovviamente qualche anno di lavoro, è riuscita a pagarsi tutti i debiti residui per un totale di più di 450 mila Euro. Ed è anche andata poi in pensione, cioè è diventata una pensionata felice, perché grazie ovviamente a questa attività, come hai visto, c'è anche il versamento dei contributi, quindi ha anche la sua pensione erogata dall'Inps e ovviamente anche la rendita generata dal business di network marketing. Oppure come ha fatto anche Daniele Tonincelli, perché lui è un ex vigile urbano in pensione, quindi da pensionato ovviamente, sai, la vita costa e ha visto che la pensione andava un po' stretta, quindi ha cercato un'entrata extra e anche un modo poi per fare qualcosa, per stare attivo, per rimanere in attività. E ha trovato il business del network marketing, ha cominciato a lavorare e ha costruito un'attività che gli genera dai 500 ai 800 Euro extra al mese, quindi puoi anche ovviamente stabilire tu quello che vuoi guadagnare. Oppure come ha fatto anche Ilenia Raisa, Ilenia Raisa è una ragazza che ha cominciato a 18 anni, come suo primissimo lavoro, non ha fatto mai nessun'altra attività, è una ragazza senza autostima e senza nessuna competenza, ha voluto avviare la sua attività perché sostanzialmente vedeva i suoi genitori che erano molto impegnati nel business che loro avevano come ristorante e attività commerciale e quindi lei ha voluto scegliere qualche cosa che le consentisse di essere più libera. E quindi ha cominciato l'attività di network marketing, in sei mesi ha raggiunto la carriera manageriale, non ha più fatto altro nella vita se non questo, ormai è 24 anni che fa questa attività e ha creato un business che attualmente fattura circa un milione e mezzo di euro all'anno, frutto ovviamente di impegno, costanza e dedizione. Quindi riepilogando un'attività indipendente che gestisci in base alle tue esigenze, puoi farla da casa dove vuoi, puoi sfruttare gli strumenti online oppure puoi lavorare solo offline o puoi fare tutti e due, come vuoi, puoi sceglierla di affancarla alla tua attuale attività qualsiasi essa sia, anche part time, quindi come ho fatto anch'io, nessun investimento di capitale, perché qui non ci sono i capitali da investire che ci sono in un'attività tradizionale, nessun rischio imprenditoriale, quindi non ci sono costi fissi e non hai nessun obbligo commerciale e quindi è un'opportunità che viene slegata dal tuo tempo, è accessibile a tutti, appunto come hai visto, ha un regime fiscale agevolato, è un'attività ereditabile, ha una potenziale di espansione a livello internazionale, formazione gratuita a vita, poi ne parleremo ancora, ci sono tanti premi, incentivi, riconoscimenti e viaggi, quindi è un'attività che più fai più vieni pagato e vieni gratificato. Ovviamente tutto questo avviene grazie al fatto che si è anche disposti ad impegnarsi, ma anche a formarsi, perché ovviamente devi essere disposto a voler imparare qualche cosa di nuovo, perché non puoi pretendere con le conoscenze che hai adesso, con quello che stai facendo adesso, di poter stravolgere la tua vita, perché se no continuerai ad avere sempre i stessi risultati, quindi io chiedo del tempo che uno si deve prendere, che entra nel mio team e che decide di prendersi 6 mesi per formarsi, poi ovviamente i risultati arrivano anche subito, ottimo, però chiaramente ripeto, bisogna prendersi appunto del tempo per ricostruirsi la propria attività, per imparare e per mettere in pratica, questo direi che è fondamentale, non prendiamoci in giro, perché il paradosso è proprio questo, che la maggior parte delle persone è disposta a lavorare 40 o più anni, a fare sempre le stesse cose e ricevere uno stipendio che a fatica li fa arrivare a fine mese, oppure stare in un luogo di lavoro che non piace, perché l'obiettivo è quello di maturare una pensione che alla fine gli permetterà malapena di sopravvivere con i costi della vita che aumentano e con i cambiamenti epocali che ci sono in atto, e invece pochissime persone sono disposte ad impegnarsi per 2 o 3 anni per crearsi una rendita, quindi per cambiare la propria vita e quindi per avere la possibilità di godere per il resto della loro vita e lasciarla poi questa rendita anche agli eredi, perché tanto il tempo passa lo stesso, è qui il punto, devo decidere cosa voglio fare del tempo che passa, lo spreco in qualche cosa che non mi porta niente, guardando i film, perdendo tempo a guardare le partite di calcio o cose inutili, oppure lo posso investire un pochettino di tempo per andare a cambiare la mia situazione dove mi trovo adesso, perché quindi hai solo 2 scelte, o rimani dove sei adesso, anche se non è la vita che desideri, quindi scegli di rimanere come sei, oppure prendi in mano il tuo futuro, quindi lo porti in una direzione completamente diversa, perché se prendi in mano il tuo futuro avrai la possibilità di accedere a la licenza in posizione privilegiata, con commissioni dirette del 35% e indirette del 30% nell'attività di network marketing, la possibilità di entrare nel progetto di network marketing più in crescita in Italia, avrai un portale di formazione con 70 ore di video lezioni, quindi un valore importante, perché se dovesse essere venduto questo portale parliamo di 4.000 Euro di costo, hai il sito e-commerce già pronto con il back office e la formazione anche aziendale, che anche qui ha un valore importante di 2.000 Euro, hai la possibilità di sfruttare un sistema cattura educa contatti online, formazione avanzata dal vivo, quindi la possibilità di partecipare a formazioni che facciamo regolarmente dal vivo, un gruppo di supporto, dove puoi fare domande, essere sempre sostenuto e ricevere puntualmente le tue risposte, potrai ricevere anche la copia del mio libro Networker Superstar, quindi un manuale di lavoro frutto della mia esperienza che ti insegna passo passo come puoi fare questa attività da subito e avere i risultati velocemente. Il tutto come vedi ha un valore di oltre 10.000 Euro se dovessimo quantificarlo, però in questo momento non c'è da comprare corsi, non c'è da investire soldi di questo tipo assolutamente, questo è proprio il grande vantaggio, perché qui ripeto è un business dove non dobbiamo investire capitali, non dobbiamo investire cifre, nonostante quello che ricevi è come per un'attività tradizionale alla fine, la potenzialità è la stessa se non superiore, puoi ricevere tutto questo completamente gratis, ma solo per le prime 3 persone che aderiranno a questo progetto in questo momento, perché non posso seguire tutto in uno stesso momento, quindi i posti sono limitati, posso dedicarmi solo a questo numero di persone. E praticamente cosa devi fare? Non è richiesto nessun tipo di investimento come ti dicevo, si inizia semplicemente questa attività senza comprare magazzini, immobili, quote azionarie, corsi di formazione, eccetera, come vedi è gratuito per chi agisce velocemente, sostanzialmente si inizia questo business in un modo che è il più semplice possibile, si inizia facendo una prova di prodotti dell'azienda con la quale noi collaboriamo, acquistando una cifra che va dai 60 ai 150 Euro di prodotti a scelta, come preferisci, quindi non è sicuramente un investimento di capitali, non è una cifra che impatta su un budget familiare, perché spendiamo più di 100 Euro al mese di cavolate se facciamo i conti, invece qui acquistando dei prodotti hai la possibilità di vedere la qualità per poterla poi trasmettere alle persone, ma nello stesso momento è come se fai la spesa da un'altra parte, di cose che già utilizzi, perché parliamo di prodotti di benessere e salute con la persona, ma nello stesso momento hai in mano anche il tuo business, quindi non c'è niente di migliore di questa cosa, non esiste lì fuori un sistema così semplice e alla portata di tutti per avviare la propria attività, poi ovviamente questo discorso lo vedremo poi in separata sede, una volta che ti sarai candidato e avremo poi avuto modo di conoscerci e parlare al telefono per un confronto dove andremo poi a decidere come iniziare effettivamente e anche avrai la possibilità poi di vedere tutto nel dettaglio, cioè vedere l'azienda con la quale collaboriamo e vedere come effettivamente si articola il business, come si guadagna, quali sono le percentuali e tutto il resto che ovviamente ti manca all'interno di questa presentazione. Quindi cosa puoi fare ora? Se sei interessato, se vuoi cogliere l'opportunità di avere la tua attività, di avere un'attività senza rischio, senza investire capitali, un'attività già pronta dove non ti devi inventare niente e hai tutta la formazione gratuita, ti devi semplicemente mettere subito in contatto con me inviando la tua candidatura dove potrai approfondire e dove valuteremo insieme il miglior modo per te per iniziare e quindi ricevere tutto quello che ti serve per portare avanti questa attività. Devi semplicemente cliccare sul pulsante o sul link che trovi sotto questo video, vicino a questo video, dove ti si aprirà la possibilità di scegliere data e ora, di rispondere a qualche domanda per capire bene chi sei e dove poi andremo a incontrarci al telefono. Perché ovviamente sono i momenti che cambiano la vita, perché puoi scegliere dove vuoi stare, cosa vuoi fare, scegli tu, sei tu il responsabile di dove sei in questo momento, ma anche dove sarai nel futuro grazie alle azioni che decidi di fare. E per me lo è stato nello stesso modo, ho visto una presentazione tipo questa e quindi ho preso la possibilità di darmi un'opportunità di cambiamento, perché ho deciso di cambiare il mio futuro, perché sono sempre le decisioni che prendiamo in questo momento che ci consentono di portarci da un'altra parte. Tu sei frutto delle decisioni che hai preso nel passato, dove sei adesso, e lo sarai nello stesso modo per le decisioni che prenderai adesso per il tuo futuro. Per me lo è stato quando ho visto la presentazione, come ti dicevo, poi ho scelto, ho deciso di darmi una possibilità. L'unico problema è che appunto, come ti dicevo, i posti sono limitati, perché posso seguire solo un massimo di tre persone al mese e ricevo decine di candidature nel settimana. Per cui, se vuoi essere tu il prossimo a ottenere risultati, come quelli che hai visto in questo video, liberarti dall'incertezza del futuro e avere finalmente sicurezza di costruire entrate slegate dal tuo tempo, per diventare finanziariamente libero, allora non devi far altro che candidarti ora. Candidati ora per iniziare questo viaggio cliccando sul pulsante che trovi sotto questo video o sul link che troverai sempre qua. Ci stai ancora pensando? Ma ritengo che non ci sia molto da pensare, perché come hai visto ti ho dato tutti i dati oggettivi, ti ho dato tutte le informazioni al riguardo, hai visto anche delle testimonianze, hai visto che ci sono persone che ce l'hanno fatta e quindi ce la puoi fare anche tu. L'unica cosa che devi avere è la lungimiranza di guardare oltre e la voglia chiaramente di fare qualche cosa di diverso che andrà a darti sicuramente dei risultati differenti. Quindi non hai niente da perdere, ma assolutamente tutto da guadagnare. Perché come dice Jim Rohn, la vita è troppo breve per non perseguire i propri sogni. Un giorno la tua vita si avvicinerà al termine e tutto ciò che potrai fare sarà guardarti indietro. Potrai riflettere con gioia o con rammarico. Io mi auguro che per te la riflessione sarà con gioia, che tu possa raggiungere tutti i tuoi obiettivi e mi auguro di sentirti presto all'interno della nostra chiamata che faremo al telefono. Ti ringrazio dell'attenzione, ti invito ancora a candidarti per iniziare questo viaggio insieme prima che i tre posti si esauriscano. Un saluto da Mirko Lanfranchi e a presto.